guardi in alto più in alto che puoi vai e ciao a tutti ragazzi e bentorni a un video sono flavio e oggi con me c'è comunque ho costruito questo cuore che è il simbolo della vanilla e niente allora che cosa facciamo creano qualcuno si sono già buttati come prima cosa che dobbiamo risolvere l'altra volta dobbiamo andare in mini no 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 i video non possono durare sempre un minuto o punto ciò a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di peppo cosso andiamo in miniera andiamo aspetta devo far vedere i cani i cani che abbiamo fatto i cani vieni allora questo cioè il mio ignorava questo è quello di ale questo è il lama ai più a più f giugno e questo vanno a più f e giugno e più la mamma cioè andiamo qui ale io vado io penso le docce tusca io vado io vado io vedo la torta aspetta non può più in basso voglio che c'è un posto che c'è la torta calpone sotto di te io sono il raccoglitore di materiali tu quelli del sopra e io quelli del sudo ok io ho di legna calpone da me? sento scheletri? vabbè sono lontani ma me li trovo in faccia? la scappiamo verso sinistra usiamo un dungeon livello 10 di exp? io ho livello 10 di exp ok andando per fatti meglio la fiamma tu la vieni dove sta la noia? secondo me dobbiamo andare in un altro paio no non gioco ad abc perchè chi l'ha scritto? mi amico gian domenico quello che odi? non va bene gian domenico tu lo odi ancora antonio 79 vici domini io no io no ho chiesto a lui ti sei ottenuto tu piazza le torce allora non fa niente dove l'hai trovato? me l'hai trovato? me l'hai trovato quando come? prima 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 di giocare no ma l'hai fatto in creativa Ale no in creativa e come? con i materiali ma se non c'erano noi e questo è il pietra guarda Flavio guarda guarda che colore è? marrone c'è marrone ferro oh il ferro è il mio plan io ando a prendere cose del sotto sopra no mi si è rotto coso coso dammi il ferro si da play oh raga ma lava ho visto altro ferro ma che ma che allora salgo in superficie per prendere una graffina con un po' di legna che c'è? sono morto sono morto come? si si come? hai preso danno? Ale però su una schiappa io non le faccio più via mi ero dimenticata che stavo facendo mi ero dimenticata mi ero dimenticata gian domenico si è come sei l'unico spettatore ci sia una possibilità in più per fare questa challenge si o no? prendo lo stack una possibilità grazie gian domenico ce la dai? è un grande è un grande è un grande eh ma perché faccio il ferro non hai risposto ancora quindi vi faccio una crafty si ce l'ho dato si ce l'ho dato si ce l'ho dato grande nonno tu sei tu si che sei forte allora mentre tu fai il ferro ah ci facciamo il piccolo infero quanto ne hai tu? io oh aspetta ne ho messo un altro fai il piccone fai il piccone le faccio il pacone ancora aspetta di lo i stick le faccio le faccio le faccio guarda guarda ti do il ti do il ti do il petro ti do il petro ti do il petro ti do il petro perchè viene da un cactus? che no vabbè lo brucio vivo da buttare un po' di 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 po' allora come dio sto cadendo questa è un'unica di aere ma sai prima mi avevo dimenticato che stavo facendo la cosa no non è gratis aspetta che cosa stavo facendo? mi ha chiesto se la cosa non era gratis male vieni intanto il mio lama del bagno stavo facendo il video però non prenderanno se non finisce il video dove stai non mi ne è ok un tetto non è scavato quando avevi il piccone aspetta prendo un altro po di carbone ma tu sono andato manca che non vedo mondi prendi puntare alle dobbiamo prendo il gol tutto tappo 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 al trofeo non è un peso danno fisce il video aspetta poi non dobbiamo ammazzare lo scheletro No ragazzi, No! thought that way, we should, let us see the papel che c'è? vieni ok si sta aspettando mentre prendo il ferro qua c'è carbone non fa niente io lo prendo perchè ci serve Ale però non prendere danno che questa è l'ultima possibilità eh vabbè anche se prendiamo danno non fa niente perchè voglio esplorare sto dungeon dal vivo aspetta sto prendendo ferro brutto nabbo comunque avete visto che ho prenduto cecchio perchè pensavo che si poteva costruire come su fortnite ce l'ho troppo del piccone perchè si pensava che si poteva costruire anche poi su minecraft perchè prima abbiamo giocato a fortnite quindi mi sono intrippato Ale ti devo dire quanto carbone c'ho Ale ti devo dire quanto carbone c'ho? 46 tu non vedi i minerali oia mi hanno ucciso Ale comunque ci possiamo hai preso danno? no no Ale devi dire la verità è vero è vero non l'ho preso danno no non l'ho preso giuro se no ti muera nonna eh se vuoi salgando no 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 me l'ho preso eh no è vero non l'ho preso è vero non l'ho preso è vero non l'ho preso